Se hai guardato il mio precedente video sulla separazione e se non l'hai ancora fatto questo è il momento, saprai che quando una coppia sposata vuole interrompere la propria relazione, ha diverse possibilità, ossia ricorrere alla separazione consensuale, alla separazione giudiziale oppure alla negoziazione assistita. Se ti stai chiedendo cosa fare dopo la separazione, questo video fa il caso tuo. Innanzitutto un dato, il divorzio è stato introdotto in Italia con la legge 898 del 1 dicembre 1970. Prima di procedere con il divorzio è necessario ottenere il provvedimento di separazione, che potrà essere un omologa, una sentenza, ovvero un accordo di negoziazione assistita. In caso di separazione giudiziale i coniugi potranno ricorrere al divorzio decorso un anno dalla stessa. In caso invece di separazione consensuale o di accordo di negoziazione assistita si dovranno attendere solo 6 mesi. Altro requisito del divorzio è la mancata interruzione della separazione. Come saprai, con il divorzio si taglia di netto il rapporto matrimoniale. Anche il divorzio potrà essere congiunto o giudiziale e potrai ricorrere sempre ad un accordo di negoziazione assistita. Dal momento della pronuncia di divorzio i coniugi verranno meno a tutti gli obblighi assunti durante la celebrazione del matrimonio. La sentenza di divorzio potrà prevedere un assegno divorzile nei confronti del coniuge definito economicamente più debole, il mantenimento dei figli, oppure ancora prevedere particolari trasferimenti patrimoniali. Rispondo a una domanda frequente. Oggi è possibile divorziare anche rivolgendosi direttamente al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi oppure del comune dove è stato celebrato il matrimonio. In questo caso non sarà necessaria l'assistenza di un legale e si dovrà pagare solamente una marca da bollo da 16 euro. Tuttavia, se vi sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap o non economicamente indipendenti, o ancora sia necessario effettuare dei trasferimenti patrimoniali tra i coniugi, questa modalità non sarà possibile. Restano valide tutte le possibilità che ti ho appena illustrato. Una curiosità. Nel parlare comune si dice genericamente divorzio. Legalmente, nel caso diritto religioso si parlerà di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario perché sarai divorziato per lo Stato italiano ma non per la Chiesa Cattolica. In caso diritto civile si parlerà invece di scioglimento del matrimonio. Il consiglio più prezioso che possa darti è quello di non avere paura a rivolgerti ad un avvocato anche solo per rispondere ad alcune tue domande. Noi ci siamo anche per questo. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale YouTube e segui tutti gli aggiornamenti sul nostro sito.